Sabato, 11 maggio 2019. Memoria di Sant'Antimo. Dagli atti degli apostoli. In quei giorni la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si ricò anche dai fedeli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saron e si convertirono al Signore. A Jaffa c'era una riscepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte lemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Jaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini a evitarlo, non indugiare, vieni da noi. Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fece l'incontro a tutte le vedove in pianto che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginecò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse Tabità, alzati. Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. La cosa fu risapita in tutta Jaffa e molti credettero nel Signore. Dal Salmo 115 Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Attimpirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è prezioso alla morte dei Suoi fedeli. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A Te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i Suoi discepoli murmuravano riguardo a questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? E' lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei Suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con Lui. Disse allora Gesù ai dodici, volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. e noi abbiamo capito che tu sei il Santo di Dio. Grazie a tutti.